Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale! Ok, oggi facciamo 5 sfide di resistenza, ok? Io e la maestra Chiara ve le spieghiamo man mano, una alla volta, e vedremo chi saranno le 5 vincitrici di ogni sfida. Siete pronte? Ma siamo in 6! Si vede che una non vincerà mai. Ma anche due, perché se vince tutta la stessa persona. Non sei positiva, ma sei chiaro. Va bene, partiamo da una sfida alla trave, ok? Ci sistemiamo e poi la spieghiamo. Allora, in questa sfida dobbiamo stare in equilibrio, in relevé, sulla trave, con le braccia ferme e i piedi fermi. Ok, le regole sono che perde chi abbassa le braccia, perde chi piega le ginocchia e perde chi scende dal relevé. E ovviamente se qualcuno cade. Ok? Allora, mi metto così, così vedo tutte. Allora, maestra Chiara, mentre stanno su, ci spieghi, cioè ci presenti le pupe. Prima trave, che abbiamo? Tira bene le braccia. In realtà le caviglie. Allora, davanti, tutta col completino. Nike eliminata, scendi giù. C'è Adele. Ok. Fai vedere. Adele completino nero. Che ha iniziato quest'anno con noi. Dietro c'è Martina, che la conoscete già dall'anno scorso. Nella trave in mezzo c'è Aurora, che è l'unica bimba che ha ancora cinque anni. Nell'ultima trave, davanti c'è Viola, che ha iniziato anche lei quest'anno in questo gruppo. E dietro c'è Giada, che la conoscete già, anche Giada dall'anno scorso. E Nike che è caduta. E Nike che è caduta giù per terra, che anche lei ha iniziato... Oh, Marti, caduta. E' caduta eliminata. Nike e Marti, venite qui. Manine belle, eh. Qui davanti. E Adele è eliminata. Adele è eliminata. Intanto, Nike, secondo te chi vince? Per Marti vince Giada. Per Nike? Anche per te. Anche per Nike vince Giada. Guardate la trave in mezzo. E anche per Adele vince Giada. Vedremo. Tretti i talloni, vicini i talloni tra di loro. Oh, Aurora è eliminata. Oddio. Sfida per l'ultima trave. Viola, Viola, metti bene le titine che sembri... Oh, è uno spaventapasseri. Siete lì da due minuti esatti adesso. Cosa fa male? Le colpacce? A me le braccia. Ah, le braccia. Spingi già. Su, sui talloni, sui talloni. Sui talloni. Iniziamo i primi traballini. Ma se ti guardi intorno, vuoi cavie? Ginocchia tese, Viola, spingi indietro le ginocchia. Aurora, secondo te chi vince? Giada. Giada, per tutti vince Giada. Ha vinto Giada. Ok, prima sfida. La vincitrice è Giada. Adesso riposate le braccia, riposate i piedi. In questa sfida siamo sempre alla trave e facciamo la sfida di squadra a gambe divaricate. Pronte? Allora, ovviamente cade chi piega le braccia perché si appoggia al sederino, in quel caso chi piega le gambe e chi scende dalla squadra. Ok? Pronte? Posso? Posso? Uno, tre. Due, due, uno. Vedo poco. Giada, vieni a dirmi chi vince secondo te. Allora, per Giada vince Viola. Marti, per te? Per Laura. Per Martina vince. E ora è eliminata, è eliminata per Aurora. Ha vinto Aurora. Brava, Auri. Bravissima. La più piccola avete fatto vincere con la squadra. Fammi vedere i muscoli. La prima che si ferma ovviamente sarà eliminata. Veloce, veloce, veloce. Veloce, veloce. Ti si ferma. Giada è eliminata. Sembra semplice ma è molto faticoso. Adela è eliminata. Giada è eliminata. Marti, chiudi bene i piedi, sennò è eliminata. Siedere le gambe, Aurora. Ha vinto. Aurora, hai vinto. Due sfide per Aurora. Bravissima. Bravissima. Vai, Chiara. Questa è la sfida del cucchiaino. Chi resiste più tempo il cucchiaino. È eliminato chi scende e chi muove. Basta, chi scende. Spiegaci come ha fatto la posizione del cucchiaino. Noi prendiamo le patine sulle cosce, facciamo la goba benissimo, e senniaviamo un pochino i piedi. Ok. Pronte? Pronte. Me lo faccio. Tutte pronte? Tre. Due. Uno. Ti appoggia le spalle è eliminato, eh. Un tempo è bellissima. Ginocchia, Giada. Marti è su, 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 un po' più gobba. Nike è anche tu, un po' più gobba. Un po' più gobba. Non si prendono le cosce, senniavano eliminati. Ecco, così è l'altra regola. Nike? Nike, fa la gobba. Fa la gobba, gobba, gobba. Marti e Nike eliminate. Venite qua. Adele, vieni qua. Puntine, dai, dai. E siamo rimaste in tre. Viola, fa la gobba. Ma Giada è del colore del suo top. Sta diventando un po' fucsia. Ginocchia. Viola, venata. Gobba, gobba, gobba. Auri. Ah, vincerà un'altra sfida o Giada o Aurorina. Giada. Mi mette sui panini. Fa male la pancia. Ah, per la terza volta. Ma oggi è proprio una campionessa, Aurora. Una. Molto brava. Anche questa sfida è una sfida di tenuta degli addominali. Devono tenere appesa la spalletta e ginocchia appiccicate al naso. Più tempo per favore. Perdo, ti abbassa troppo le ginocchia. Diciamo sotto a novanta perdono. Ok. Ok. Pronte? Non per la spazio, non per la spazio. Sistematevi. Quando siete tutte pronte. Sì. 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 Viola scelta. Viola. Sì. Sì. Marti o Aurora? Di nuovo Aurora. Aurora si è vinta quattro sfide oggi. Ok. Allora, le sfide di oggi si concludono qui. C'è stata una super vincitrice che è stata Aurora per oggi. E quindi noi adesso vi salutiamo. Ciao. Ci vediamo in un altro saluto. Ok.